Benvenuti, amici appassionati di Terra Amara. Oggi siamo qui per esplorare l'arrivo di un nuovo personaggio che sta sconvolgendo le dinamiche della serie turca più amata di Canale 5. Chi è questo nuovo cattivo che ha fatto il suo ingresso in grande stile? Si tratta di Asmet Kolak, interpretato dall'eccezionale attore Altan Gordum. Nel corso di questo video, sveleremo tutti i dettagli di Kolak, il misterioso assassino determinato a vendicarsi della famiglia Yaman. Scopriremo la sua storia, le sue motivazioni e come il suo arrivo sta causando un terremoto nella tranquilla cittadina di Kukurova. Analizzeremo le caratteristiche di Kolak, descritto come un individuo dal carattere robusto, calvo, con baffi da motociclista e uno sguardo penetrante come il ghiaccio. Ma cosa succede nella vita reale di Altan Gordum? L'attore è dietro questo personaggio intenso. Altan Gordum è noto per la sua versatilità artistica e oggi esploreremo la sua carriera, dalla sua ampia esperienza teatrale al successo sul piccolo e grande schermo. Scopriremo anche aspetti sorprendenti della sua vita personale, tra viaggi, amore per la natura e il legame con la figlia Lizze, che ha seguito le sue orme diventando anch'essa un'attrice di successo. Infine, analizzeremo come Asmet Kolak, l'uomo volitivo e pericoloso della serie, rivoluzionerà l'intera trama di Terra Amara. Che cosa ci riserva il futuro per questo personaggio? Scopriremo tutto in questo entusiasmante viaggio nel mondo di Terra Amara. Quindi, non perdiamoci ulteriori dettagli su questo personaggio che ha già conquistato i cuori dei fan in tutto il mondo. Continuate a guardare il video per un'immersione completa nel mondo di Terra Amara e di Asmet Kolak, interpretato da Altan Gordum. Terra Amara è piena di sorprese. Ogni episodio è un nuovo colpo di scena, ed è per questo che entra in scena Asmet Kolak, un assassino disposto a muovere cielo e terra per vendicarsi della famiglia Yaman. Se volete conoscere tutti i dettagli di questo nuovo personaggio della serie turca e dell'attore che lo interpreta, continuate a guardare. Asmet Kolak arriva a Terra Amara dopo aver trascorso 20 anni in prigione per aver ucciso 8 persone a causa di un malinteso su un terreno. Inizialmente era stato condannato a 30 anni di carcere, ma la sua pena è stata ridotta a 20 anni, il che ha lasciato molte facce e gesti di stupore tra i cittadini di Cucurova. Se dovessimo descrivere Kolak, parleremmo di un tipico duro. Un uomo calvo, con baffi da motociclista e un penetrante sguardo di ghiaccio. Accusato di avere molte questioni in sospeso, arriva in città in grande stile, rendendo nota a tutti la sua presenza e suscitando dubbi e incertezze sul breve tempo che ha impiegato per tornare a Cucurova e lasciare il carcere. Vuole che tutti sappiano che è tornato. Dal suo ritorno in città, non ha perso tempo e la prima cosa che ha fatto è stata quella di andare alla ricerca di Zuleia per reclamare la terra che, secondo Kolak, Demir gli aveva sottratto. L'obiettivo di questo personaggio è quello di tornare a essere l'uomo più potente e ricco della città e, pertanto, sta tornando dalla prigione per reclamare tutte le sue terre e rendere conto a tutti coloro che gli devono qualcosa. Vuole riprendersi tutto ciò che gli appartiene, costi quel che costi. Reclamare la terra è l'unica cosa che Asmet ha in mente e abbiamo già visto che cercherà di farlo a qualsiasi costo e con chiunque. Il suo obiettivo è chiaro e nessuno potrà fermarlo. Un personaggio volitivo, possessivo e pericoloso è arrivato in città e non è stato turbato nella sua lotta per ottenere ciò che vuole. L'attore che si cela dietro questo personaggio è Altan Gordum. Nato proprio ad Adana, Gordum è un attore noto e acclamato nel suo paese. La sua carriera di attore è molto ampia. Dal teatro, al piccolo e grande schermo, questo attore è diventato un personaggio molto amato dai suoi fan. L'attore turco è stato sposato con l'attrice Vaide Percin, che nella sopa opera turca interpretava un carriaman. Sono stati insieme dal 1991 al 2013 e hanno avuto una figlia di nome Alice nel 1994. La sua ex moglie ha superato il cancro alla pelle e attualmente sono divorziati, anche se hanno un ottimo rapporto. Tanto che vivono vicini, si incontrano a pranzo in occasioni speciali e viaggiano. Molto attivo sui social media, Gordum mostra molte foto della sua vita, in cui si vede come un amante dei viaggi e della natura. L'attore mostra sempre la figlia Alice Gordum, che ha seguito le sue orme ed è diventata attrice. È appassionato di gatti, che mostra costantemente sul suo profilo. Senza dubbio, il personaggio dolce e affabile di Altan Gordum è l'esatto contrario del suo personaggio in Terra Amara, che rivoluzionerà tutto nel tratto finale della serie turca che ha conquistato il mondo. E con questo, cari spettatori, giungiamo alla fine di questa appassionante esplorazione nel mondo di Terra Amara e del suo nuovo cattivo, Asmet Kolak, interpretato dall'incredibile Altan Gordum. Spero che abbiate apprezzato questa profonda analisi del personaggio e dell'attore che gli dà vita. Altan Gordum, con la sua straordinaria versatilità, ci ha regalato uno sguardo dietro le quinte della sua vita, confermandosi un artista poliedrico e appassionato. Che sia sul palcoscenico teatrale o sullo schermo, Gordum ci ha dimostrato di essere un talento eccezionale. Ma torniamo a Kolak e al suo impatto sulla trama di Terra Amara. Con il suo carattere deciso, il suo sguardo penetrante e le sue motivazioni misteriose, Kolak ha già conquistato l'attenzione e la curiosità dei fan. Che cosa ci riserva il futuro per questo personaggio? Le sorprese e i colpi di scena sono garantiti. Non dimenticatevi di lasciare i vostri commenti qui sotto. Vogliamo sapere la vostra opinione su Asmet Kolak e su come secondo voi influenzerà la storia. Soprattutto Zuleyha dovrà guardarsi le spalle. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere nessuna delle nostre analisi e anticipazioni su Terra Amara. Grazie mille per essere stati con noi in questo viaggio emozionante. Continuate a seguire Terra Amara e il nostro canale per ulteriori aggiornamenti su questa entusiasmante serie turca. Ci vediamo al prossimo video, a presto!